La prima edizione di Oratg del 10 febbraio, ben trovati a voi tutti, apriamo subito con la cronaca in prima pagina, l'operazione antimafia tra Sicilia, Lombardia e Veneto della Guardia di Finanza di Catania, ha sequestrato un ingente patrimonio, arrestate 26 persone nell'ambito dell'operazione. Segui i soldi. E' un ingente sequestro quello operato dalla Guardia di Finanza alle prime luci dell'alba di oggi. Un'operazione che vede impegnati oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, con il supporto e la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. Provvedimenti eseguiti in varie regioni d'Italia, tra Sicilia, Lombardia e Veneto, e ordinanze di misure cautelari. Nei confronti di 26 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori, al fine di eludere la normativa antimafia. I finanzieri, in casa di uno degli indagati, hanno trovato addirittura un milione di euro in contanti, oltre ai soldi. Anche 17 società in Sicilia 48 immobili e proprietà varie sparse tra l'isola, il Veneto e la Lombardia. Fatta luce in particolare su danaro investito illecitamente dalla clan Scalisi, attivo ad Adrano, e diramazione della clan Laudane attraverso il boss Giuseppe Scarvaglieri, attualmente in carcere con il 41 bis, ma ugualmente a capo dell'organizzazione. A seguire gli affari della famiglia sarebbe stato il nipote Salvatore Calcagno, coadiuvato da Antonio Siverino e dalla figlia Francesco. Attraverso dei prestanomi sarebbero state costituite diverse società. Per 5 persone sono scattate le manette ai polsi e sono state trasferite in carcere, mentre il sequestro di beni, particolarmente ingente, riguarda aziende e immobili per un valore di circa 50 milioni di euro, rinvenuti e sequestrati, anche orologi di lusso preziosi e auto di grossa cilindrata, tra cui anche una Ferrari, dal valore di circa 200 mila euro, due Porsche e un auto di Q8, il clan Scalisi di Adrano, era riuscito ad inserirsi nel tessuto economico sociale del nord-est d'Italia, estendendo quindi progressivamente all'interno del territorio nazionale le attività imprenditoriali, diversificandole tra loro anche attraverso la commercializzazione di prodotti petroliferi in Veneto e Lombardia. Nei confronti di Antonino e Salvatore Calcagno è contestata anche l'aggravante di aver contribuito a finanziare il sodalizio criminale, mentre ad Antonio Francesco Siverino è contestato il concorso esterno e un'associazione mafiosa, avendo agevolato sotto il profilo finanziario ed economico gli scalisi di Adrano, attenzionati in particolari 17 episodi di trasferimento fraudolento di valori. Nel sequestro rientrano 48 immobili, di cui 15 fabbricati e 33 appezzamenti di terreno, tutti situati in provincia di Catania e Messina. Ancora cronaca all'omicidio dell'ispettore Racitti durante il derby tra Catania e Palermo di tanti anni fa, i testimoni della trasmissione, le Iene indagati adesso per diffamazione alla polizia, infatti non avrebbero detto il vero circa la ricostruzione che avrebbero poi formalizzato alle telecamere delle Iene. Vediamo. A 14 anni di distanza, con due sentenze di condanna passate in giudicato, i fatti del 2 febbraio del 2007 allo stadio Angelo Massimino di Catania continuano ad impegnare i magistrati del Tribunale Tneo. Due presunti testimoni, un uomo e una donna di 42 e 44 anni, che avrebbero riferito fatti non veri al programma televisivo Le Iene, sono stati iscritti nel registro degli indagati per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Avrebbero offeso la reputazione della polizia di Stato, affermando in modo implicito che nelle indagini sulla morte dell'ispettore capo Filippo Raciti sarebbero state coperte volontariamente le responsabilità dei veri autori, indirizzandole dolosamente a carico di Antonino Speziale. I due, intervistati dal giornalista Ismaele Lavardera, hanno sostenuto la tesi del fuoco amico, secondo cui Raciti sarebbe stato ferito mortalmente da un Range Rover della polizia. Tesi questa affrontata anche nei processi e smentita da tre gradi di giudizio. La Digos della Questura ha notificato loro un'informazione di garanzia e contemporaneo avviso di conclusione delle indagini preliminari firmata dal procuratore capo Carmelo Zuccaro e dal sostituto Andrea Bonomo. L'inchiesta è stata avviata su quella rappresentata dal capo della polizia dopo la messa in onda il 12 novembre del 2020 delle interviste durante il programma trasmesso ed Italia 1. La donna, interpretata da un'attrice, ha sostenuto che, in qualità di familiare acquisita della famiglia Raciti, aveva partecipato ai funerali e in quell'occasione aveva udito un poliziotto che, avvicinandosi a Nazareno Raciti, padre del poliziotto, avrebbe chiesto scusa all'uomo perché la morte del figlio era stata causata dalla manovra errata di un collega. Ha inoltre aggiunto che aveva capito che Speziale era stato solo un capro espiatorio. L'uomo ha invece detto che Nazareno Raciti avrebbe riferito a suo padre di aver saputo che suo figlio, Filippo, non era stato ucciso da Speziale ma da colleghi con un'errata manovra con un'auto di servizio. Nazareno Raciti, sentito dalla procura, ha smentito nettamente e decisamente entrambe le ricostruzioni. Per la morte dell'investigatore sono stati condannati per omicidio preterintenzionale a 8 anni e 8 mesi Antonino Speziale, all'epoca dei fatti minorenne e che ha finito di scontare la pena il 15 disembre dello scorso anno, e a 11 anni Daniele Micale, 33 anni, che è tornato in semi libertà poco prima di Natale del 2018 dopo aver scontato oltre metà della condanna in carcere a Catania ed ha un residuo pena di meno di due anni. I carabinieri del nucleo provinciale di Catania hanno denunciato un catenese di 18 anni ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio militari. Si sono presentati nell'abitazione del giovane in via Fiume per effettuare una perquisizione dove nella sua camera, nascoste all'interno di una scatola, hanno trovato 85 grammi di marijuana già confezionate in singole dosi per la vendita, al minuto nonché la somma di 450 euro, ritenuta a provento della vendita della sostanza stupefacente. Sempre a Catania, ma la Polizia di Stato ha denunciato un sorvegliato speciale di 44 anni per furto aggravato e continuato perché è ritenuto essere l'autore di sei furti a distributore automatici di uno stabile di viale ordorico da Pordenone. L'ultimo furto era stato commesso qualche giorno fa. L'uomo sarebbe anche l'autore di un furto commesso pochi giorni addietro anche in un centro di riabilitazione in via Cesare Beccaria dove si sarebbe possessato di un telefono cellulare. La Polizia è giunta all'uomo analizzando le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza mentre effettuava i furti ai distributori automatici. Nuova intrusione di ignoti la notte scorsa su via Castromarino a Catania da oltre un anno recintato dopo il crollo del palazzo che ha lasciato per strada 16 nuclei familiari. I ladri sarebbero agevolati dall'assenza di controlli e di illuminazione secondo quanto dichiarano i residenti. Nuova incursione di malviventi la notte scorsa negli appartamenti di via Castromarino a Catania qui dove da oltre un anno regna la desolazione e adesso anche la delinquenza. Oltre al danno per le 16 famiglie private della loro abitazione ancora oggi alloggiate con soluzioni di fortuna la beffa di vedersi sottratti gli effetti personali che si trovano lì dalla notte tra il 19 e il 20 gennaio del 2020 quando cedette buona parte dell'edificio dopo che lo stesso fu sgomberato poco prima che tutto prendesse la forma di un vero e proprio disastro. Da allora tutto congelato gli sfollati che attendono di rientrare in possesso dei loro alloggi che sono off limits per ragioni di sicurezza. Chiedono controlli ed illuminazione adeguata nella zona. Una vergogna ci raccontano stamani esausti. Sì praticamente siamo già al secondo furto. La zona non essendo mai stata né sorvegliata né illuminata naturalmente fa gola all'estofanti e malfattori. Il primo furto era avvenuto ai piani bassi l'8 di aprile in pieno lockdown. Praticamente avevano approfittato del fatto che i primi piani hanno ormai le porte ormai divelte dal crollo e basta una semplice spinta per aprirle. Addirittura siamo arrivati noi al punto che attraverso il buco c'è una vorange di 15 metri. Queste persone a loro rischio e pericolo perché attenzione questa è una zona pericolante. Noi già qui stiamo rischiando mentre stiamo parlando. Sono riusciti sempre introducendosi da queste case a entrare anche nel nostro palazzo che fortunatamente è chiuso da una porta. Purtroppo noi abbiamo solo constatato dall'esterno che hanno rubato la porta pesantissima di ferro che chiudeva il sottoscala. Abbiamo trovato la porta aperta. A questo punto presupponiamo che siano stati fatti anche dei danni nel palazzo ma perché presupponiamo? Perché il nostro palazzo è cinto dal cantiere della CMC e il reato scavalcare ed entrarci quindi oggettivamente noi presupponiamo che sia successo qualcosa presupponiamo che si siano portati tutte le nostre cose ma nemmeno lo sappiamo perché qui non è venuto nonostante una nostra denuncia nonostante chiamata a 112 e quant'altro non è venuto nessuno a constatare il reato perché vi ripeto c'è un cancello che dovrebbe in teoria aprire la CMC perché è stata la protezione a giugno la protezione civile di Catania a dare il mandato a CMC di mettere in sicurezza l'area appunto con questo cancello che comunque è fatiscente volendo a scavalcarlo è un attimo c'è buio il cancello è facile da aprire facile da scavalcare c'è il quartiere totalmente abbandonato insomma stiamo servendo le poche cose nostre rimaste che poi non sono ricchezze sono i libri sono i suppellettoli le fotografie di una vita ma questi sono balordi perché siamo tutti arrangiati c'è chi per esempio come noi fortunati siamo riusciti fortunati a trovare una casa in affitto io pago 600 euro di affitto e sono in questo momento causa covid l'unica che porta qualcosa a casa relativamente perché poi a giugno il mio contratto a scuola finisce e da luglio in poi che si fa chiediamo quello che da un anno chiediamo sorveglianza e soprattutto illuminazione le problematiche sindacali il mondo dell'autotrasporto siciliano aveva proclamato lo stato di agitazione già qualche giorno fa prevedendo a partire dalla giornata di oggi la possibile sospensione dal lavoro però la sospensione del lavoro è stata sospesa in quanto in questi giorni in queste ore si sono succeduti vari incontri tra cui uno di questi con l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone che ha mostrato apprezzabile interesse viene scritto in uno comunicato e ha garantito il proprio sostegno alle autotrasportatori da qui la sospensione del servizio è stata come dicevamo sospesa gli autotrasportatori siciliani avevano proclamato lo stato di agitazione per la stringente normativa del regolamento europeo le condizioni imposte dalla committenza per la consegna della merce il mancato rispetto dei tempi di carica e scarico e per la crescente carenza di autisti determinata dalla decurtazione del punteggio accessorio alla sanzione oltre che all'inadeguatezza del sistema infrastrutturale del paese aspettano inoltre una proroga al primo marzo riguardante gli aumenti dei nori marittimi proclamati da una compagnia privata al porto di Catania e a Catania partono i lavori di riqualificazione di via Palermo impegnati i fondi comunitari per in tre mesi, nuovi marciapiedi, guardrail, muretti a manto stradale in un'arteria che necessita davvero interventi ormai da decenni un'arteria viaria strategica la via Palermo a Catania di collegamento tra il cuore del centro storico e le periferie nesima in particolare in tre mesi sarà riqualificata, messa in sicurezza, modernata dopo anni di attese non solo dei residenti ma anche da chi qui è solito transitare ogni giorno per ragioni lavorative tre chilometri che da piazza a palestro si spalmano lungo la direttrice ovest della città qui operai al lavoro per abbattere barriere architettoniche rifare l'asfalto, sistemare barriere catarifrangenti e guardrail e muretti laterali interventi a costo zero per l'amministrazione comunale stamani sopra luogo si tratta di fondi comunitari oltre 800 mila euro la via Palermo conduce da piazza a palestro all'ospedale Garibaldi Nuovo tre chilometri di arteria di grande importanza molto trafficata che versa fino ad oggi in una condizione certamente non qualificante ecco perché abbiamo in assoluta sinergia con l'assessore Arcidiacono con l'assessore Parisi utilizzato risorse europee si parla di 872 mila euro a base d'asta per migliorare gradualmente la condizione del manto stradale della nostra città con interventi anche molto più articolati su questa arteria noi andremo a rifare i marciapiedi, i muretti, i guardrail determinare l'accesso per i disabili quindi è un progetto assolutamente organico di grande valenza per la nostra città che si inserisce perfettamente all'interno di un altro molto più articolato che interesserà dal 23 febbraio in poi la zona industriale con un intervento da 1 milione e 200 mila euro per la via Filippo Anfuso e le parallele alla via Filippo Anfuso con altri progetti che riguarderanno il rifacimento radicale della circonvallazione di Catania della via Dusmet, della via Vittorio Emanuele, della via Garibaldi quindi stiamo utilizzando in maniera qualificante le risorse europee per cercare di eliminare quello che è lo stato certamente non qualificante delle strade della nostra città dopo 40 anni di incuria Ed è un problema anche di sicurezza come sapete ormai anche la micromobilità la sta facendo da padrone quindi dare sicurezza oltre che qualità urbana alla nostra città costituisce sicuramente uno dei programmi che l'amministrazione ha posto in essere il sindaco fogliese sin dall'inizio del suo insediamento quindi stiamo dando seguito a questo grazie a una sinergia con l'assessore Parisi che ha giustamente insieme alla giunta con le indicazioni del sindaco dato un indirizzo ben preciso evitando cattedrali nel deserto e ponendo le economie su situazioni come quella delle manutenzioni strade che per la città di Catania è un vero problema visto che la città davvero non viene manutente davvero da molti anni C'è l'intenzione di riqualificare altre arterie con fondi comunitari in particolare con quelli del patto ma anche con altri fondi che potranno arrivare dall'Europa il mio assessorato, la mia direzione politica comunitaria attualmente si sta adoperando per intercettare queste risorse e di concetto con le varie direzioni in particolare quelle tecniche, lavori pubblici e manutenzione nel caso specifico ovviamente lavoro in sinergia con loro per cercare di sfruttare fino all'ultimo centesimo ma soprattutto per opere di questo genere che poi sono il vero servizio che bisogna dare ai cittadini Computer portatili in comodato d'uso gratuito per favorire la partecipazione alle attività didattiche a distanza al perdurare dell'emergenza epidemiologica e questa è la nuova opportunità che è offerta dall'Università di Catania ai suoi studenti iscritti al primo anno nei corsi di laurea di laurea magistrale a ciclo unico per ottenere uno dei 484 notebook messi a disposizione dall'Ateneo sarà necessario presentare però un'apposita domanda e seguire un bando che è stato già pubblicato dall'Università di Catania andiamo adesso ad Acireale la SOGIP municipalizzata che si occupa della distribuzione in città di acqua e gas si dichiara disponibile a riqualificare e mettere in sicurezza il palasforto accese un'opportunità per il territorio afferma il direttore Salvatore Messina il direttore della SOGIP la municipalizzata che si occupa della distribuzione di acqua e gas in città dato la propria disponibilità prendesse il carico dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento strutturale del palasforto 10 reale passato al patrimonio immobiliare della città dopo un lungo contenzioso giudiziario e l'impegno finanziario trentennale da parte del Comune a saldo dei debiti accumulati con l'IRFIS l'istituto finanziario pubblico della Regione la struttura di contrata Tupparello la più grande del Sud Italia è al centro di interessi dei tanti promotori e organizzatori di concerti desiderose di assicurarsi nella gestione non prima degli interventi richiesti ovvero la riparazione del tetto dall'infiltrazione di acqua piovana e l'adeguamento a norma dei locali l'impegno di spesa si aggira sul milione di euro solo dopo si potrà intraprendere la procedura di affidamento tramite bando pubblico per l'ente proprietario un'occasione di introitare denaro degli eventi pubblici a patto che si stabiliscono regole chiare la proposta di affidare i lavori alla SOGIP ha trovato un'ampia condivisione sul piano politico il direttore Salvatore Messina ha competenze, uomini e capacità imprenditoriali ed è in grado di farsi carico del progetto abbattendo significativamente tempi e modi della burocrazia comunale la scelta dunque ha lo scopo di ridurre i tempi di intervento e di accelerare il bando di affidamento ai privati il Palasport fa gola e promoter l'organizzatore di grandi eventi di massa e può rappresentare una risorsa per le casse comunali il direttore della SOGIP Salvatore Messina manager di lungo corso ha sempre dato prova di capacità organizzative e tecnico finanziari in grado di portare a compimento in tempi celeri l'impegnativo progetto di restituire la piena funzionalità del Palasport l'amministrazione sta valutando l'ipotesi di dare l'incarico alla SOGIP di metterla in sicurezza renderla agibile per poi poter decidere che cosa fare quindi non si sta valutando l'ipotesi di una gestione SOGIP ma l'ipotesi di intervento della SOGIP per recuperare tutte le carenze strutturali che esistono nello stabilimento poi l'amministrazione deciderà che cosa fare se fare un bando europeo non so quali sono le intenzioni dell'amministrazione però al momento è necessario mettere in sicurezza la struttura evitandone il degrado e che sia grave ancora di più lo stato di conservazione della struttura Ci sono i fonti per fare ciò? Sì ci sono i fonti ma è nella intenzione della SOGIP poi vedremo quali sono gli atti di indirizzo che l'amministrazione ci darà ma le intenzioni sono queste effettuare questi interventi e metterlo in sicurezza e nell'emore che l'amministrazione effettuerà lo studio per un bando per un eventuale affidamento se sarà possibile se ci saranno le condizioni la SOGIP si adopererà per dar vita a qualche manifestazione che consenta di recuperare le somme spese dopodiché poi si vedrà Insomma che poi la sport è un'opportunità anche economica per la città? Eh beh io direi di sì è una delle poche opportunità non va dimenticato che è la più importante struttura del centro-sud quindi è un'opportunità che non va messa in secondo piano ma che l'amministrazione sicuramente valuterà nel modo giusto per sfruttare questa ipotesi di recupero di eventuali risorse economico-finanziarie da portare alle casse del Comune che ritengo ce ne sia molto bisogno Un milione di euro della protezione civile per la scuola di Piano d'Api frazione 10 reale dichiarata inagibile e chiusa a seguito del sisma del 2018 il nuovo plesso sorgerà in un'area adiacente e sarà realizzato con norme antisismiche La protezione civile dispone un finanziamento di un milione e quindicimila euro per la costruzione della nuova scuola di Piano d'Api nel territorio 10 reale chiusa per le conseguenze del sisma della notte di Santo Stefano del 2018 Il plesso ha riportato a serie di danni strutturali e sebbene non si trova sulla linea di faglia si è scelto di spostare su un terreno vicino il nuovo edificio scolastico che verrà edificato con parametri antisismici di ultima generazione sulla scorta dei provvedimenti già adottati in occasione della ricostruzione della scuola nella vicina frazione di Pennisi anch'essa compromessa dal terremoto abbattuta e riedificata con materiale ecologico ed antisismico un interlaborioso che ha impegnato diversi uffici e l'azione coordinata della politica regionale che ha indicato le soluzioni idonee per restituire la didattica in un'area decentrata che ha visto le autorità costrette a trasferire la popolazione scolastica nei locali parrocchiali della chiesa di San Cosmo e Damiano a due anni e mezzo dal terremoto che ha colpito i paesi a nord del capolico Ateneo l'attività sinergica tra il dipartimento nazionale e quello regionale della protezione civile ha permesso di sbloccare i fondi necessari alla costruzione di un nuovo e funzionale polo scolastico nella frazione di Piano d'Api il vecchio edificio verrà demolito e al suo posto l'amministrazione comunale non esclude di realizzare un parcheggio con verde pubblico ed aria giochi attrezzata così il sindaco di Eceleale Stefano Alì tutta la problematica proprio nasce su questo tema perché i fondi ci sono perché la scuola è stata distrutta dal terremoto però il commissario l'area in cui sorge la scuola non era adeguata alle dimensioni al numero di classe e quindi non si poteva ricostruire il luogo e quindi il commissario per la ricostruzione non aveva i poteri per costruirla qui sempre andiamo a finire su temi di burocrazia che la gente non riesce neanche a capire e a rendersi conto mentre invece il commissario per l'emergenza ha i poteri per delocalizzare e a questo punto attraverso quindi l'impegno che ha messo l'ingegnere Cogine e l'architetto vecchio e grazie anche alla sensibilità del dottore Borrelli si è spostato si è deciso di spostare l'immobile della scuola in un'area retrostante l'attuale chiesa e quindi avere la possibilità di realizzare questa struttura anche questa verrà realizzata con quella di Pennisi con materiali in legno quindi con una struttura ecosostenibile ecocompatibile e contiamo al più presto di poter partire con questa attività d'altronde se delocalizzano i privati vedi via Messina dovranno farlo anche le scuole altrimenti saremmo punta da capo però in questo caso la delocalizzazione non è a causa della faglia mentre i privati delocalizzano perché sono su aree attraversate da delle faglie e qua in questo caso è perché l'area non è più adeguata a poter ospitare una scuola quindi non è un problema legato al terremoto è veramente una situazione caffichiana io la definisco il sindaco di Giare Angelo Danna ha indicato un nuovo assessore che sostituirà l'avvocato Patrizia Lionti dimessasi dalla carica lo scorso 22 dicembre si tratta della professoressa Ermelinda Nicotra laureata in giurisprudenza docente di materie giuridiche nelle scuole secondarie di secondo grado si tratta dice Danna di una stimata professionista che opera da sempre a contatto con le giovani generazioni mi aiuterà in giunta in questi ultimi mesi mi affiancherà a lei saranno date le materie attinenti alle deleghe attualmente mio possesso ad interim domani affermate il sindaco sarà anche formalizzata la scelta del vice sindaco da nominare tra i quattro assessori della giunta Danna l'orrore delle foi beh colpisce le coscienze dice il presidente della Repubblica Mattarella nel giorno del ricordo in cui si evoca il massacro degli italiani di Istria e Dalmazia manifestazioni in diverse città anche online come ad esempio a Catania Fiume Dalmazia Pola Trieste Esurestriano Foibe Norma sono parole che messe una dietro l'altra ma anche pronunciate singolarmente raccontano storie di italiani in foibate oppure i 300.000 costretti alla fuga da quello che fu definito il paradiso socialista di Tito gli eccidi e i danni di militari di civili della Venezia Giulia della Dalmazia durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra dal 43 al 47 da parte dei partigiani Jugoslavia dell'Ozna si parla fino a 11.000 vittime sono ricordati ogni 10 febbraio ma solo dal 2005 quando in Italia venne istituito il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata una sorta di riconoscimento dell'unità nazionale oltre che l'attestazione di un eccidio che ancora oggi divide in uno stretto imbuto come stretto imbuto fu il canale delle foibe le prime violenze esplosero proprio con la firma dell'armistizio in Istria poi in Dalmazia i partigiani si vendicarono contro gli italiani che nell'intervallo tra le due guerre avevano amministrato questi territori imponendo talvolta l'italianizzazione per cui vennero considerati nemici del popolo prima torturati poi gettati nelle foibe quindi le lotte le battaglie per il dominio della Dalmazia dell'Istria di Trieste i morti oggi dunque il giorno del ricordo con cerimonie anche online un po' ovunque il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è davvero diretto un orrore che colpisce le nostre coscienze le sofferenze l'utti lo sradicamento l'esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale sono iscritti con segno indelebile nella storia della tragedia della seconda guerra mondiale e delle sue conseguenze il presidente della regione nell'Omusumeci rivolge un commosso pensiero alle migliaia di vittime della ferocia comunista uccise gettate nelle foibe perché colpevole dice di essere italiane alcuni in foibati erano siciliani molti tra i superstiti si rifugiarono nella nostra isola dove trovarono calore umano accoglienza la possibilità di progettare una nuova vita il comune di Catania ha proclamato una giornata di studi che ha avuto inizio questa mattina con uno spettacolo teatrale in diretta streaming a cura del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia il Rossetti ricordare portare al cuore testimonianze documentazioni iconografiche immagini poetiche per non dimenticare poi il dibattito Norma Crosetto e i martiri dimenticati con Alberto Spampinato di Atletica Edizioni e la video intervista a Carla Isabella Elena Cace presidente dell'Associazione Nazionale Dalmata stasera in diretta streaming alle 18.30 sui siti del comune di Catania pagine strappate il 10 febbraio fra storie ricordi identità un dibattito con Salvo Pogliese sindaco Barbara Mirabella l'assessore alla cultura Emanuele Merlino presidente nazionale del comitato il 10 febbraio quindi Tonico Puozzo giornalista e scrittore moderato di tutti da Paolo Di Caro direttore dell'assessorato alla cultura del comune di Catania un modo per ricordare un modo per non dimenticare anche perché si dimenticò per tanti troppi anni circa 60 si faccia chiarezza sull'incendio che ha distrutto l'auto del giornalista di live Sicilia del mensile S Francesco Scollo e se venisse accertata la natura dolosa del ruogo si individuino e puniscano gli autori del vile gesto ad affermarlo il presidente della sezione catanese dell'Unione Nazionale cronisti italiani Filippo Romeo se dovesse essersi trattato di un tentativo di intimidazione nell'esprimere vicinanza e solidarietà al collega condanniamo fermamente l'accaduto prosegue Romeo nessuno pensi di mettere a rischio con atti violenti che rappresentano un attacco alla democrazia e il diritto alla cronaca e alla informazione i tifosi della Catania omaggiano doverosamente grazie a Codiglione la vedova di Angelo Massimino scomparsa all'età di 90 anni fu presidentessa del club rossa-azzurro per un quadriennio dopo la morte del marito stamani i funerali commosso ricordo stamattina in occasione dell'esegui della signora Grazia Codiglione moglie del compianto Angelo Massimino presidente per lungo tempo del calcio Catania per quattro anni dopo la prematura scomparsa del marito per un incidente statale la signora Codiglione ha guidato il club rossa-azzurro dal 96 al 2000 continuando la tradizione familiare a capo della storica famiglia che ha contraddistinto le vicende del massimo club calcistico etneo si ricorda in quegli anni anche una promozione dalla C2 alla C1 con la presidentessa a capo della società coadiuvata dai familiari commosso il ricordo di tanti tifosi e sabato prossimo in occasione della gara di campionato tra il Catani e la Virtus Francavilla in programma allo stadio Massimino a partire dalle 12.30 la squadra rossa-azzurra ricorderà Grazia Codiglione con un minuto di silenzio iniziale e il lutto al braccio ma ricordi ne potrei dire tanti tutta la famiglia Massimino perché la signora Codiglione era la signora Codiglione non dico altro tutto era diciamo la gestione era familiare ma l'uomo che coordinava tutto era la buonanima dell'ingegnere Insalago il quale si coordinava sempre con il suo suocere ed era una persona veramente a modo la signora non si può dire niente non dimenticava niente ricordava tutto e di tutti era tutto demandato ai generi Conti Insalago al nipote Angelo Russo ma la signora veniva di tanto in tanto negli spogliatoi e dava quell'offrone tanto noi abbiamo vinto un campionato dalla C2 alla C1 con la signora Codiglione Presidente non ti può dire altro la signora era una persona a modo ripeto era una persona di un certo offessore ma come tutta la famiglia Massimino Rieccoci dopo la pubblicità ma solo per i saluti finali termina la prima edizione del nostro telegiornale la prossima questa sera alle 19.45 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata a voi tutti le previsioni del tempo per la giornata di domani 11 febbraio in Sicilia cielo sereno o variabile con poche piogge nella zona del Messinese soprattutto a sera i venti saranno deboli nella parte occidentale più sostenuti lungo le coste specialmente nella zona ionica i mari quasi calmi poco mossi le temperature saranno anche domani assai gradevoli soprattutto nelle ore del pomeriggio Siracusa 20 gradi Catania 19 le città più calde a sera repentino decremento dei valori soprattutto nella parte centrale dell'isola Enna 4 gradi Caltanissetta 5 2 2 3 4 6 6 7 9 10 10 13 14 15 16